Ciao a tutti ragazzi, siamo Laura e Robio in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, però non dico riassumeremo il calciomercato, questo assolutamente no, perché questo lo dovremmo fare ovviamente a fine agosto, o a fine settembre, perché si è organizzato comunque ieri il calciomercato, anzi no, non ieri ma venerdì, perché per voi appunto, cioè per noi oggi è 3 di luglio ed è una domenica, per voi quando uscirà il video sarà il 23, che è un venerdì amore, perché hai vinto che faremo uscire un video, è vero, è vero, quindi niente, oggi andiamo un attimino a parlarvi un po' delle, come si dice, dei nuovi acquisti, esatto, perché allora, innanzitutto noi ci siamo salutati l'altra volta appunto con, allora, il possibile ritorno di Lukaku, che è tornato raga, è tornato, poi, se non guardate molto come siamo vestiti, ma ragazzi, cioè, allora, oltre a che si creepa, perché veramente, sono tutto caldo in casa, io ho un caldo tremendo, infatti sono in cammino, infatti io torno sempre così, con il tirano botanze, cioè, non mi alzo perché ho sui pantaloni, però, appunto, e scusate, ahia, e scusate appunto per le nostre facce, sembrano magari tipo, non vogliosi, ma ragazzi, sono troppo distrutti, sono distrutti, cioè, se avessimo fatto, cioè, poi vi lasciamo in alto in descrizione comunque il video, che abbiamo già registrato, che diciamo il motivo del perché siamo così distrutti, però appunto, ragazzi, cioè, dopo due giornate così impegnative, stancano raga, infatti, non so, comunque, se ci vedete dalle pagine, magari un po' più rosse, e se io sarò un bordeaux, se da ora sì, soprattutto se ne spalle si vede, si vede lentamente, comunque, a parte, comunque, sti, sto, cioè, sti cose, ovviamente, nostre, cioè, non nostre, cioè, comunque, sì, oltre a nostre, ma ovviamente, diciamo, a sti, sta pubblicità, se possiamo ritornerla, pubblicità, l'altra volta, appunto, abbiamo parlato, appunto, vi abbiamo detto, appunto, Mkhitaryan, appunto, che è andato all'Inter, alla Juve, magari, poi, c'era un possibile tentativo, che Dybala andassano all'Inter, o al Milan, cioè, al Milan, c'era, abbiamo detto, appunto, su Lukaku, che, appunto, forse, stava a, cioè, forse, tornava all'Inter, ed è tornato, è tornato all'Inter, Mkhitaryan, è andata da Roma, quindi, compriva al 100%, nuove acquisti, Aslani, ecco, lo dice mia moglie, e, Onana, Onana, che è il portiere, e Aslani, ragazzo, lo stangevano, raga, dall'Empoli, dall'Empoli, che, scusami, amore, Aslani, c'è vent'anni, Aslani e Onana, dall'Aiaz, un bel portiere, ci sta, perché, comunque, andano, dice, comunque, alla sua età, non dico che ti terrà l'età di Buffon, però, no, però, magari, si può anche ringevoiare la squadra, esatto, però, chi ne sapete, magari, non so, Andano, invece fa la stessa carriera di Buffon, ovvero, che va avanti, fino, non so, a quanto anni passa, chi lo sa, però, giustamente, come ha fatto la Juve, che, un po', ha visto che Buffon, e, sta iniziando a, invecchiare, esatto, senza pesa, Gigi, senza pesa, però, no, vabbè, dopo la stessa, però, io ho visto che la Juventus, ha preso Cesani, peperini, sì, vero, nel senso, è giusto che, comunque, ringiovanisci la squadra, come sia, nell'attacco, centrocampo, difesa, anche nel portiere, esatto, in sé, poi, ovviamente, per quanto ti guarda, di Bala, io ripeto, sembra che si sia pentito, cioè, lui si è pentito, nell'avere fatto la cacchiata, e sta cercando di tornare alla Juve, ma, a quanto pare, se la Juve, è un po' lì così, non sa se, farlo tornare, oppure no, da quello che leggo, è un po' titubante la squadra, non sa se, dargli un'altra possibilità, o se, poi anche, comunque si tornerebbe, prenderebbe la 21, penso, o un altro numero, non la 10, non la 10, perché forse, la prende pool, anche se ho letto, Mure, l'ho letto una volta, un po' di giorni fa, che sia Vlaovic, che Mura, che Chiesa, cambiano il numero di maglia, cioè, camminata, Vlaovic, 9, 9, 1 di Mura, e Chiesa, ha preso la 7, ma perché? ma, essenzialmente, se io, essenzialmente, non lo so, cioè, so, ci sa comunque cambiare, cioè, ma, non so, io vi dico, Vlaovic, è vero, non si sa che era la 7, ma, si sentiva pronta di prendere la 7, allora, la 9, ma io l'ho chiesti per curiosità, neanche, la 9, perché allora, è vero, Morata, è vero, è stato richiamato dall'Atletico Madrid, anzi, è scaduto il contratto, dalla Juventus, quindi, è ritornata nella sua casa attuale, ovvero, l'Atletico Madrid, no, è vero, l'Atletico Madrid, dovrebbe però, rinnovare il contratto, a, appunto, Morata, la Juve, non so, bene, non sto capendo bene, si, anche, non si sto più dietro, di, riconfermarlo, cioè, di, 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 subito il calcio di mercato, figurati, io, non lo seguiro, perché ragazzi, sono a lavoro, e prendo a luna, ma lo tengo aggiornato io, raga, ecco, è grazie a me, che mi fa solo il tutto, sì, poi c'è la tua sera, è vero, la sera, quando comunque si mangia, calcio nel calcio, perché appunto, alla sera, ti dice un po', però hanno parlato con lui, anche di varie acquisti dell'Inter, e tu cosa ne pensi, di Aselani? Allora, Aselani, mi dico, ragazzi, non hai comunque, giustamente, da un po', una squadra di calcio, comunque, che sia grande, che sia media, che sia piccola, comunque, cioè, ti avrai il numero 14, ragazzi, allora, ripeto, è vero il numero 14, è il capo il 90, no, non lo so, se il 90 di Luca, come se non è salita, perché è vero, è vero, però ripeto, ogni tanto, è giusto che, ovviamente le squadre, le ingiovaniscono, vi dico, non che faccia come la cavolata, come, non so, come l'ha fatta, non so, una volta come il mio, anche, che abbiamo fuori tutti, quelli vecchiotti, che per anzionotti, poi ha messo, quelli giovani, e poi ha impiegato parecchi anni, per, ma l'interno stava, e sta ringiovaniscono la squadra, sì, lo so, oppure come la Juventus, che fuori, non so, metà squadra, forti, dentro i giovani, con i giovani, dopo, infatti, ce ne vogliono gli anni, anni per ritornare a calcio, in quell'interno, raga, l'interno stava, via Ranocchia, sei andato in prestito, che è andato, poi, allora, per quanto riguarda, invece la Juventus, allora, che ho proprio, ho proprio le informazioni qua sotto, e amore, scusami, tutto certo, cosa ne pensi di Asellani? E, è un giocatore, perché comunque, è giovanissimo, è un buon acquisto da parte dell'Inter, che l'ha fatto, sì, sì, perché ha buone possibilità di crescere, poi, ripeto, non per rucufare, ma sì, non ha, magari, Liossa, o magari, cioè, Liossa, ce li ha, perché comunque, è Anne che gioca, in Serie A, però, comunque, non se la senta, non so, sono già a gennaio, facendo esempio, ma non si trova molto bene, fa bene comunque, ad andare in prestito, e dal prestito, guarda bene, però, ripeto, comunque fa bene, comunque l'Inter, anzi, ha fatto benissimo l'Inter, e anche Juana, è stata una costruzione, a prendere questi acquisti, perché comunque, sono, cioè, veramente, vero amore, ottimi, ottimi, allora, quella, non c'è tra niente, di cui nell'Inter è la Juve, da Monza a Barcellona, alla Riturna di Jovetic, però, era da Ler Tabellino, wow, comunque, parla della, poi, Scamacchia saluta la Serie A? No, 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 ma povero, la voleva la Juve Scamacchia, pare San Germen, è pronto a chiudere, vabbè, è stato un'idea giusta, che si faccia, oddio no raga, ha quello trovato, per Enderson all'Atalanta, se ne parlava, Enderson all'Atalanta, ah dai, ci sta un buon, un buon difensore, la Tora resta, 80 milioni per diritti, di Bale al Napoli, ma che cacchio di voci, stanno uscendo raga, io non capisco, se si divertono, 80 milioni per diritti, sicuramente per il Chelsea, ma scommettiamo, ma scommettiamo, infatti, c'è, offre, offre, sì ma sicuramente, madonna santa, 80 milioni, ma te lo dico, purtroppo diritti, se ne va purtroppo, ma perché comunque, come si dice ragazzi, in calcio di una volta, a Portovole non c'è più, i giocatori, le bandiere, come Del Piero, Zanetti, Maldini, Totti, Totti, altri giocatori, non ci saranno mai, mai, e le note comunque, cioè nel senso, io lo vedo, magari poi mi sbaglio, proprio come la vedo io, Di Bala, poteva fare, poteva restare la vita, nella Juventus, Di Bala ha fatto la bazzata, e adesso, rimpiangi, Gigi, ovvero Gianluigi, Donnarumma, poteva fare veramente, la vita, nel Milan, perché, è dal 2016, che al Milan, io quest'anno che ho detto, è andato all'estero, poi forse detto, no ma non si sa neanche, cioè Gigi, so di essere il numero uno, a base di alie, che ricavolato le fai, non è che non le fai, se è chiaro, cioè, no, però, cioè ripeto, ah, hai parlato di, di, di Maria, allora, per quanto riguarda, di Maria, e poi va, sono molto contento, che ovviamente, poi, però ovviamente non l'ho ancora presentata, appunto, la Juventus, e appunto, i giocatori, che ho comprato, allora, poi, osavi posso dire, perché, sai che appunto, è stato comprato, ufficialmente, a 40 milioni di euro, ottimo acquisto, purtroppo, l'anno scorso, la Juventus, è andata di sfortuna, che ovviamente, si è rotto, però, quest'anno, spero in bene, appunto, e basta, perché si è sportiva, quindi, spero in bene, anche io, Rivoluzione, Lazio, la scelta in porta, Romagnoli, addio, Luiz Alberto, a Ork, bene, interessante, e basta, Ronaldo, vale la cessione, cosa ha filtrato, su Napoli, l'annualità, Bayer, ha meritato Milan, vabbè, Cervi, ha rotto la tutta, quella, l'altra, la decisione, la sua piatta, la sua piatta, pure se ne va, ma speriamo, speriamo veramente, che lo prenda la Juve, perché, comunque, è forte Cervi, e si va alla Juve, lo spero, perché, se va via delizio, che prendi, basta, basta, quello che volevamo dire, basta, perché comunque, basta, no, basta, perché poi, tutto il resto, ma, non c'è di da quale cazzate, e, boh, amore, vuol dire, allora, Carciomercato Inter, novità sul futuro, di Sanchez, lo vuole, lo vuole un club, eh, ma lo devono cedere, poter altronde, ovvio, cioè, Natale, bravisto, perché si toglie dal mercato, Natale, insieme, bravo, non ho letto, l'altra parte, per canzone, trista, forza Inter, forza Juve, eh, eh, e niente ragazzi, ci aggiorniamo, a presto, con altre, con altre, acquisti, e accessioni, ha avuto un favore di essere sportivo, perché sei stato felice, quando, anche per Oana, se sei felice, un'ana, amore, non un'ana, sembra, sembra che, se non me ti riesco, è a me, sarà a te, no, è un'ana, amore, una, e io anche che l'è, dico, alcuni nomi, è vero, eh, molti nomi, è vero, non so, non so leggere le lettere, però, in questo caso, è un'ana, sì, quello, no, è vero, amore, eh, lo so, è un po' complicato, un'ana, amore, è un po' complicato, un'ana, che stress, che cattivo, il senere, amore, non so, e quindi, niente, allora, noi vi saltiamo, ci aggiorneremo, prezzo, con le nuove, nuove views, le nuove news, notizie, siamo stanchi, ragazzi, scusate, scusate, nuove notizie, su capciano di carta, si cambierà qualcosa, esatto, quindi, lascio la parola a mia moglie, ok, allora, se questo vi è piaciuto, tanturmi da tanti uccini, mettete tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, per non perdervi nessuno, dei nostri video, mi raccomando, quindi vedete, dappertutto il nostro, video, canale, il nostro video, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video, ciao, ciao,